Ciao a tutti i dreamers io sono Francesca e qui è Joseph Gamer con Mario e Sonic ai giochi olimpici E così dice all'inizio quando avvice Lo abbiamo perso ragazzi lo abbiamo perso Mario e Sonic basta basta Oggi andremo in modalità multigiocatore ovvero due giocatori e faremo Taffetta arrampicata e alla fine faremo un bel tennis tavolo Che per chi mi segue sa già che io mi sono allenata a tennis tavolo Non mi stavo impappinando perché ho scassato la gente online Addirittura fai sti fatti senza dirmi nulla In ogni caso ragazzi lasciate un like adesso se volete altri video insieme su questo gioco E si va ci sto vai Iscrivetevi al canale tappate la campanellina Instagram trovate tutto giù in descrizione Allora come si fa? R per caricare l'energia al via Ok uno contro uno ovviamente scegli i tuoi sfidanti Allora il mio personaggio preferito di questo gioco è Shadow Ok corre velocemente Allora facciamo così Io vorrei portare con me Sonic Vado con Sonic Ah ma quanta gente dobbiamo portare con lui? 4 Va bene dai va bene così io li ho scelti Yes Yes Nessuno lo fa meglio di me Yes Basta 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 Questa cosa è tagliale per favore Sto scherzando vai Io sono su tu sei giù Io sono giù ok Mi sono dimenticato i tasti Devi premere R per caricare Ok ok me le ricordo E al via premia No Francesca stavi per dire una brutta parolaccia ho questa impressione Super scatto Non ho sbagliato tutto Fra Corri Corri come se non ci fosse un tomorrow Fra non ci abbiamo sbagliato tutto ovviamente qua No 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 è vero Passa il testimone perfetto Corri Super scatto Perfetto Vai donkey Vai donkey No donkey Non ci abbiamo sbagliato tutto Questa la dobbiamo riprovare Sì questa la dobbiamo rifare No però è la prima volta per capire come funziona Quindi adesso ho capito e perderemo di nuovo E quindi siamo stati battuti dalla squadra di Vector e quella del dottor Igman Eh lo so però tendenzialmente dobbiamo capire come Ma scuso Ho vinto E beh perché tra i due sei arrivato tu prima Ah medaglia di bronzo Sei arrivato terzo tu sei comunque sul podio terzo Io non ci sono arrivato Io ci sto Ci sto Ci sto Quindi ci riproviamo Proviamoci di nuovo Allora vai Concentrazione massima Concentrazione Io ho il controller pro Te ne vanti pure Sì Quando dice A Vai Ho sbagliato tutto comunque Non si parte così Sbagliamo la partenza Ho sbagliato il super scatto Va bene Mancato scusa mi zio La miseria Guarda quelli come corrono No francese questo lo dobbiamo rifare No Non è possibile Vai Yoshi Vai Yoshi Sei partito già con il super scatto Ma che ne so me l'ha dato subito Perfetto Vai Guardati quanto Vai Ah francese di nuovo terzi e quarti Ma qua bisogna allenarsi per capire come funziona Qua in tutti i giochi bisogna allenarsi È vero Ho notato questa cosa Vabbè però a prescindere Sono sul podio Va benissimo No Mi sta bene Io non nemmeno sul prodio Sul Miei prodi combattenti Mi dispiace Ma siete arrivati terzi Questa è la battaglia La battaglia di magenta Basta però Voglio capire un attimo Quale altro L'arrambicata L'arrambicata sportiva Ma dovevi continuare Ma tu metti Stai mettendo la difficoltà massima Perciò perdiamo Perché tu l'hai messo Wow francese Metti normale È la prima volta che la facciamo È ovvio Perché non le sapevo Perché tu Francesca l'ha fatta apposta Mi sta mentendo Non è vero Vai 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 Vabbè sì Shadow è il mio personaggio preferito Soprattutto perché poi ti dice anche Quando lo Sonic vedi parla no? E Shadow dice Lascia fare a me Lascia fare proprio Convintissimo lui Ci penso io Con la voce giù Vabbè Allora questo è difficilissimo Ma sbagliamo tutto Lo so già Allora forza Ah No no ok Ci sto dentro zio Marò sto sbagliando tutto Scusa Ah Mannaggia Ah Serve l'altro Non c'è l'altro Eh ho capito Grazie Checkpoint Checkpoint Oh Questo mo' si sta stancando Ma mi dice che è un po' lontana Quella che ho scelto È un problema Può risultare un problema Eh sì No non sto parlando Perché mi sono un po' In Spattina Ma che Sto perdendo i cuori Quindi sto per perdere Ma no Voglio credere di no Scusa Non è che ce la facciamo No ma all'inizio Una volta che capisci Come muoverti Te la sai gestire Checkpoint Ken ce l'ha fatta Sono caduta giù Raggiunti 20 metri Ma questo è difficilissimo Ma quale Ma in che senso Un po' lontana Devi scegliere Una pietra Che è più vicina a te Non devi fargli fare Troppi salti Se no si stanca subito Come me E si è caduto giù Perché a un certo punto Non ce l'ho fatta più Però credo che ci sia qualcosa Che noi stiamo sbagliando Sì Credo ci sia qualcosa Secondo me Dobbiamo riposarci un po' No non succede niente No se ti riposi Ho notato che effettivamente Però Un po' lontana Raggiungiamo questo checkpoint Sali no Non ce l'ho fatta 24 Vabbè comunque questa Non la voglio ripetere E ci scassa Oh eppure Guarda che sono andato benissimo Sono andato secondo Vabbè io sono quarta Vabbè non è malissimo Vabbè però modalità Zitto Normale Zitto In ogni caso Ha vinto Mario Va bene Mario Ogni tanto Io la puoi vincere anche Mario Lo facciamo vincere Mai mai Va bene Va bene Tonde bellissimo Bravi 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 Sì è proprio bravi Tu lo chiami ping pong O tenistano Io lo chiamo ping pong Da sempre Anche io In singolo Vabbè Io contro te Ci sto ci sto Fai così Singolo Allora Io vado con Donkey Kong Io vado Risposte potenti Francia ti sei allenata Secondo me Vabbè Allora io vado con Bowser Vediamo Potresti Ma vediamo Eccoci qua Zè Zè Tu sei Bowser Bowser sono a destra Ok inizio io Vai Boh Aspè aspè un attimo Non ho capito Partita da 5 punti Ma no Deve esserci lunga Ma vabbè Poi c'è anche il cappotto Quelle cose così Eh vedi Eh frigeri Ci dobbiamo svegliare Tutte e due Forza Svegliato Mamma mia Ma che è sta palla invuocata Oh Donkey Kong Eh perché tu me l'hai alzata Quando sbaglia A me A lanciarla Alza la palla E' tremolante E se premi Y ne ha Con A ti fa l'effetto a sinistra A destra Mentre con Y non te lo fa a destra Ah ok Buono a sapersi Effettivamente si C'hai ragione Vabbè però Diciamo che è abbastanza semplice E' molto gestibile Vogliela dire a Philip Chi è Philip Il tizio che è sconvitto online Oh hai fatto una bella Oh ma che è L'ho presa Non ci credo Ma la schiacciata Nessuno me l'aveva Buam Uh stai tranquilli Stai moggia zia Vabbè vabbè Arrivato il mio momento Aspetta Buona Franci Hai sbagliato la battuta Cioè ti casi E poi sbagli la battuta Scusa Eh ma a volte uno si Fatelo dire E tu toghi Buona Franci Ma che si fa Ho premuto No si rifà Non mi hai manco Non mi hai manco Fatto fare la suprema No no si rifà Si rifà C'è stato un misunderstanding Che c'è stato? Un misunderstanding Un frantendimento Giocati nuovo Vuoi capire? Giocati nuovo Di scasso Ragazzi Francesca Sta diventando un po' Cattivella No 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 Vabbè non la sa fare No come E non me l'hai detto Come si fa Scusa Wow Francesca È una pentita Non mi dici Come si fa la mossa Cioè Premo X Versa avanti Eh scusa Cioè ragazzi Francesca Vabbè vabbè Vuol dire che ti devo Proprio far pentire Ma mi sono esercitata Ti esercitavi anche tu Edi Eh Ecco qua Mi sono esercitati Ti esercitavi pure tu Ma non mai avevi detto Che mini giochi Avremmo dovuto registrare Quindi Vabbè non lo sapevo Nemmeno io Prima di venire Ma sì Vabbè Sei venuta proprio apposta Allora facciamo il ping pong Facciamo questo Vabbè E te la devo parare Quindi facendo verso indietro No no Devi premere un tasto Qualsiasi E l'ho premuto Eh no Ragazzi Francesca Ci sta nascondendo qualcosa No vabbè Vedi Attenzione ne ho parate due Ti paro pure la terza Vai così Sì Eh vabbè La quarta no Eh vabbè Ma non esageriamo Però è molto figo Ci sta Mi piace questo Online anche divertente No Ma no Ragazzi Amo perdiamo 4 a 1 C'è il cappottone qua Eh no Non ci sto A perderla così Io sto con Joseph No vabbè Ragazzi Ma non posso fare questa vita No Come si fa Il colpo incredibile Lo so Lo so Lo so È mio Ti ho fermato pure la battuta Lì Oh yeah 4 a 2 Eh vabbè Sto sotto parecchio Vabbè però ci proviamo Match point Match point Oh yeah Attenzione ce la rimonta No Non c'è nessuna rimonta Francese se la perdi qua Detto non c'è nessuna rimonta Mi devi una porzione di patatine fritte Non ti do niente Parte la scommessa Me la prepari tu Non è che la andiamo a comprare Me la fai tu Vai Ti metti là E mi cuoci le patatine Fatte in casa Che sono pure più buone Ok Non c'è Ragazzi 4 a 4 Francese No ma si arriva a 6 Sei pronta per questo bell'hamburgerino Più patatine fritte Scusi No No Ma che ha fatto Ti ho stondito in front Ti ho chiappato qui Vabbè Dove Ah Ah Meno male che me l'hai detto Perché Vediamo No Fra Fra No Vabbè ragazzi Mi è andata male Mi sono perso la porzione di patatine fritte A questo punto facciamo così In un prossimo video Voglio la rivincita Ci sto Nel prossimo video Joseph avrà la rivincita Ma solo se lasciate tantissimi Mi piace Oh yes Oh yeah Come fa Luigi Come fa Luigi Oh yeah Oh yeah Vabbè ragazzi Ci sta Quindi ragazzi Anche questo video si conclude qui Fateci sapere cosa ne pensate Lasciate il mi piace per la rivincita Joseph No non è per la rivincita In realtà è per la bella Esatto Specifichiamolo Eh Vabbò E per iscrivervi ai nostri canali Cliccate sui pallini che vedete sotto di noi Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale Cliccate sulle miniature accanto a Joseph Noi vi salutiamo E alla prossima Ciao Mario Quello Quello L'hai detto così Ciao Mario Ero qua Ero qua Ero qua